Si chiama solitudine e per tanti anziani rappresenta uno dei problemi più rilevanti della quotidianità. Quasi il 50% degli anziani over 75 vive in Veneto da solo. I dati sono stati raccolti dalla spiccigelle che lancia l'allarme. Parliamo di 300.000 persone che, soprattutto in queste settimane, rischiano di perdere i propri punti di riferimento sia nelle città che si svuotano sia nelle zone più isolate dove la solitudine è ancora più marcata durante tutto l'anno. Persone fragili in difese che, fra l'altro, rischiano di finire nel mirino di truffatori o ladri. I dati, provincia per provincia, sono sconfortanti. La situazione peggiore è quella di Belluno con il 51,48% di anziani soli, seguita da Rovigo con il 50,81%. Le province anche più piccole, ma sono anche le province che hanno le persone più anziane, anche con età più anziana e, tra l'altro, che vivono in territori dove, possiamo dire, sono praticamente, al di là dei capoluoghi, tutte aree interne, quindi anche spesso sprovviste da servizi di prossimità. Non va meglio comunque nelle altre province, dove più o meno si attestano tutte tra il 47 e il 48%, un fenomeno che si accentua maggiormente durante l'estate e le festività come il Natale, anche se, dice, si tratta di una problematica che sta diventando sempre più quotidianità. Per alcuni anziani diventa impossibile andare a fare la spesa, continua Nicoletta Biancardi, perché il negozio sotto casa è chiuso. Può essere un'impresa anche a recuperare i medicinali, per questo riteniamo necessario prevedere servizi a domicilio, ma anche trasporti dedicati a chi non può muoversi in macchina o con altri mezzi. Insomma, bisogna trovare delle soluzioni. Noi appunto con i nostri strumenti, ma assieme anche alle altre organizzazioni sindacali, quindi non lo facciamo solo da soli, ci muoviamo su più fronti, appunto quello della contrattazione sociale e territoriale che facciamo con i comuni, con tutti i comuni del Veneto, ma anche con la Regione Veneto, ma anche collaborando appunto con le associazioni di volontariato e culturali. quindi cerchiamo di, naturalmente, innanzitutto di capire quali sono le problematiche, poi agire per trovare anche delle risposte concrete. Non solo, ma diventa fondamentale stimolare una sorveglianza di vicinato, invitando le persone più giovani a relazionarsi con gli anziani soli che abitano nello stesso condominio o nella stessa via. Di solitudine termina, si può morire. Grazie. Grazie.